Queste sono le violente sequenze della rissa scoppiata in una strada del centro di Lecce, via Maremonti, la notte tra il 4 e il 5 settembre 2014, alla vigilia del raduno nazionale di Casa Pound Italia che si è tenuto assurbo. Ora, a 12 delle persone ritenute coinvolte in quell'episodio, è stato ordinato di non allontanarsi dal territorio del comune in cui abitualmente abitano. Sono 12 gli obblighi di dimora notificati all'alba da altrettante persone, 8 ritenute appartenenti al movimento di destra e 4 al locale centro antagonista binario 68 occupato, tutti accusati del reato di rissa aggravata. Le ordinanze sono state firmate dal giudice per le indagini preliminari Annalisa De Benedictis e notificate dagli agenti della Digos di Lecce. Gli 8 ritenuti appartenenti a Casa Pound sono di altre città italiane. Dell'attività di indagine è stata infatti costantemente informata la direzione centrale della Polizia di Prevenzione che ha coordinato le Digos di Lecce, Arezzo, Bologna, Lucca, Milano, Parma, Pistoia, Roma e Torino, tutte interessate alla notifica delle misure cautelari. In concomitanza con il raduno nazionale tenutosi a pochi chilometri da Lecce che ha visto la partecipazione di circa 400 persone, antifascisti, anarchici e antagonisti provenienti anche da altre province, hanno effettuato una serie di contromanifestazioni, alcuni rendendosi autori di vari danneggiamenti e dell'occupazione per oltre un'ora della stazione ferroviaria di Lecce. Proprio in quelle ore si è scatenata la rissa tra i due gruppi contrapposti. La Digos ha denunciato i partecipanti identificati e da qui è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora. L'importanza invece dell'applicazione di questa misura è dovuta, richiede nell'esigenza che noi intendiamo riaffermare non soltanto come Polizia di Prevenzione da parte della Questura e del personale della Polizia di Stato ma anche come esigenza repressiva da parte della Procura della Repubblica nei confronti della violenza. perché indipendentemente dal colore politico, e qui abbiamo situazioni che coinvolgono da una parte e dall'altra, al di là di questo, come è accaduto anche in passato, non è tollerabile che ci siano manifestazioni di violenza così esasperate che in una città normalmente tranquilla e che ha diritto, come tutti i cittadini hanno diritto, di vivere in maniera tranquilla.